Ciao a tutti bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori! Nello scorso video ho completato tutto quanto il gioco dell'impiccato Abbiamo visto Basil che veniva, casa sua veniva praticamente distrutta Era circondata da un mare rosso E sono arrivato qui in questo punto Con tanti piccoli occhi che si muovono Dunque ho preso una chiave Iniziamo magari in maniera logica ad aprire queste porte Ok questi piccoli occhi non fanno nulla Direi di aprirle in maniera logica iniziando da questa qui in basso a sinistra Vediamo dove ci porta Ui C'è una balena lì Sconosciuto che è praticamente Basil Queste stanze sono piene di cose rotte Ma alla fine qui dentro posso vedere chi sei davvero Il mondo che hai creato sopra questo L'hai fatto per proteggere questo posto o per nasconderlo? Comunque sia Ormai è diventato più forte di te Bene come sempre bisogna seguire le orme E questo Questo posto il dolore è insopportabile Vi prego fatelo smettere Ma se io andassi per fatti miei? Cioè non vorrei perdermi in questo trip assurdo? Mamma mia Wow ma che roba è Ah un'altra chiave? Ah no forse va in loop come Come tutte le cose Ah si è andato in loop Oh mio dio quella vuole la mia chiave vuole No vai via vai via Non so dove andare però Oddio cos'è questo? Oh va bene Quelli se mi prendono mi rubano la chiave probabilmente Ok devo scendere qui? No Da qui sono partito quindi Cosa? Oh Questo è Mari? No questo è Sanni forse La faccia mi pare la sua Però mi muovo lentamente qui dentro Quindi non devo andare lì Magari è meglio se non ci vado Se mi prende la mano Mi butta fuori Ma ho preso un'altra chiave Ah quindi le mani devono buttarmi fuori Ah e una volta che ho aperto la porta scompare Va bene Ci sta? Ci sta? Oh mio dio cos'è questo? Oh? Hai la nostalgia di casa? Dici? Vabbè io ovviamente seguo Oh Basil Ciao Persa in questa confusione risiede la radice di tutto La verità che è nascosta da qualche parte Devi ritrovarla assolutamente Non importa cosa accada Devi farlo Per entrambi Prendiamo la chiave Mamma mia che posto strano Ciao sono gattolo qua Ci chiedi qual è il senso della vita Aspetta aspetta Un paio di forbici arrugginite Cosa? Tantissimi piccoli spigli appuntiti Un lago spesso per cucire Ma che significa? Un paio di metri di pe... Mio dio Ok è finito niente si è rotto Un pomodoro fatto di stoffa Ok niente mi da tutte quante le stesse domande I cereali sono zuppa Va bene Non credo mi possa aiutare oltremodo Eh vabbè andiamo via vai Usciamo da qui Oh ma quante porte ci sono Un po' troppe eh Forse Vediamo un po' Oh questo è piuttosto Lineare Che sei questo? Ti sei perso Non preoccuparti Le mani rosse conoscono la via Ah beh Magari era meglio dirmelo Fin dall'inizio Ciao Uomo gigante Ciao Ciao mano rossa Portami via Non credo ci sia molto da fare in queste stanze Ad essere sincero eh Mi pare che ci sia poco poco da fare Solo da vedere quanto sono elaborate Ui ui Wow Che cavolo di posto Assurdo Niente si luppa ovviamente Questo cos'è? Boh Non mi fanno interagire Ma queste persone qui? Niente Ma Ok ciao Quando hai nascosto la verità Hai segregato una parte di me in essa E è da tutto questo tempo Che lui sta aspettando qualcuno che lo salvi Quel giorno Quando sei diventato nulla Io sono stato diviso in due Cosa pensi che faccia più male? Mmm Ma questo cos'è? Cane Ciao mano rossa Ma le mani rosse forse sono buone A un certo punto Però ti aggrediscono Quindi pare che vogliano Farti del male L'album da disegno Ah questo è diverso E beh Ah si è evoluta l'ultima pagina Quelli sono Mori O meglio Sanni e Basil Ma qualcosa è successo poi Ok andiamo in questa porta Wow Ok Ci sono Qualcosa Qui Mamma mia Bugiardo Ok Non so Cosa? Dove sto andando? Mamma mia Bugiardo 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 Lo fa a intervalli regolari A caso Ok ho capito Grazie del Per avermelo ripetuto Ah Ecco ci stiamo avvicinando Ok Sono un grande bugiardo Sì Ah Salve Sanni Ti voglio bene Eh dai Wow Cos Sanni Ti voglio bene Sì Io Ho Capito Quindi Ok Lo fa a intervalli regolari Mi ripete che mi vuole bene Mani rosse Dove siete? Eccovi Sanni Ti voglio bene Sì però Sei inquietante Oddio Non è che qualcosa È meri alla fine Perché Il qualcosa Ci aiuta A superare Le nostre paure Quindi è possibile Che il qualcosa Sia meri Una reincarnazione Di meri Un po' Paurosa No 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 Già ho capito Dove stiamo andando a parare Maggior domo Mevo è stata veramente Ma veramente Cattiva Quindi Cosa Mevo ti fissa È così innocente Non hai idea di cosa sta succedendo No 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 Che voglio aprire Mevo Oddio Forse sì Aspetta però Perché Perché punire Mevo La chiave l'ho ottenuta Potrei andarmene Oh Posso accoltellarmi Allora Ho salvato Quindi nel caso succede qualcosa di brutto Posso ripartire da qui Ho appena salvato Povera Mevo Lo faccio solo per capire che cosa succede Sembra essere spaventata L'apro Ok Ok Sì Oddio Mi chiedi pietà Forse è per È per un'altra route di Omori Oh No 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 Non mi piace Non mi piace No 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 Va bene Mevo è stata cattiva Ok Lasciala lì Ah Non posso andarmene Scusami Ma Posso No Cosa Devo Devo per forza Ma no Ma povera Mevo Ma devo farlo Non mi fa andare via E se io non entrassi per niente qui dentro E andassi avanti in un'altra stanza Ah È sempre la stessa È sempre la stessa stanza E se mi accoltello Quindi a una certa La stanza è sempre la stessa Mi stai dicendo Ah sì Ah Devo accoltellarmi per tornare qui Preferisce morire lui piuttosto che la data O morire O morire O sanno Comunque sì Eh vabbè Insomma Ok qua non si può andare Oh La corona di fiori che Obri ha calciato No Chi è? Che è l'è stato? Chi era? Una corona di fiori Bene Niente qui dentro Niente Quindi posso camminare solo sul nero? No Non necessariamente Ma c'è una strada delineata comunque Oh Ciao Non muori Sei tornato da me Ma certo Ma questa è la mia corona di fiori Sono così felice che tu l'abbia trovata Usciamo di qua Guidami tu Eh Sì Io sto cercando di capire cosa fare con queste cose Angure Coltivare è stato divertente Ma ho tanti fiori a casa Ok Eh Sì Non mi sono esattamente preso cura dei fiori Mi dispiace Sì le angure sono deliziose Ricordo che quando andavamo in spiaggia le mangiavamo tutto il tempo Ti ricordi quando Kel si mise a sputare semi in faccia ad Obri? Tipico di Kel Ok qua Oddio più andiamo avanti più Diventa buio Oh Devo trovare forse la chiave tra questi Tra queste angure Angure o cocomeri Come si chiamano? Beh se il tuo hai qualche idea su come usci... Ah Sì Forse non dovevo fargli quella domanda Come esco da qui ora? Per carità Basil Io ti voglio bene però Potevi anche fare a meno di diventare così Cioè Cioè Era necessario? Ragazzi Sta mettendo ansia Sta parte mi sta mettendo un'ansia Manca poco ormai Per Per capire tutte quante queste porte Beh insomma Oh Eccomi qua Te faccio tagliola eh I nostri amici hanno sofferto per causa nostra Possiamo davvero continuare a chiamare gli amici? Non importa quanto io voglia Le cose non potranno mai tornare come prima Ma perché una parte di me continua a perseverare? C'è ancora una rimasta speranza per noi sanni? Non ne ho idea amico mio Oh mio dio Le foto Le foto diventano nere Cosa? Oh Devo trovare tutte quante le foto allora e farle diventare nere? Cancellarle per sempre dalla faccia della terra? Eccola qua un'altra Forse una di queste è una chiave Probabilmente è così Ah posso notare? Ah Ah certo Vabbè certo Non è come prendo la chiave Ma questi tonni qui Tornopinne gialle C'è una porta C'è una porta Rossa Mi mancano tre porte di qua E Quante ancora Aspetta Che sia il momento di andare da questa? Ok Proviamo Ok Wow Una bistecca dura e ghiaccio Non ho ben chiaro ma ok Va bene Forse dovevo continuare ad esplorare anche le altre? O forse ci portavano tutte allo stesso punto Ah ma è la chiesa Tutto scarabocchio Tutti che dicono la stessa cosa Che succede? Sanni La verità è qui Stavi scappando da lei per così tanto tempo Ma questa volta l'affronteriamo insieme Sanni Sei in condizioni pietose Grazie Mi? Mi dispiace così tanto Mi perdonerai Caro amico mio Devo salvare Basil Sì Non so cosa ha fatto Quindi Perché devo lasciarlo morire lì? Devo capire che sta succedendo Accidenti a voi Datemi una spiegazione Qualcosa Eh? Là fuori c'è qualcosa Lo sento Mi sta chiamando Mi sta chiamando anche te Andiamo insieme Ti prego Poi Wow No Arrivo arrivo Se riesco a muovermi Devo seguire Mamma mia ragazzi Tremendo Cioè queste sono le unghie di che Basil La striscia delle unghie Perché ha graffiato per terra per rimanere aggrappato Mamma mia Amico mio Mi dispiace così tanto Potrei mai perdonarmi? Aia Fa tanto male Omori Dile di lasciarmi andare Per favore Aspetta Cosa stai facendo? Dile di fermarsi Per favore Dile di fermarsi Mi squarceranno in due Aiuto No Si sta muovendo da solo Fermalo Che cavolo combini Oh mio dio Ma 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 Oh Cavoli Oh cavoli Siamo nel nostro mondo Ma Ah Oh Accidenti forse c'è Iro che sta suonando la musica Ma ora mi chiedo Aspetta no no Dovevo aspettare prima di entrare Volevo provare a fare un'altra cosa Aspetta 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 Allora ho salvato su un altro slot No però ho salvato prima Cavolo Niente mi sono giocato il salvataggio Porca miseria Perché ho salvato prima di entrare nella chiesa Mari? Cosa? Come? Ma Sì in effetti non sembrava Iro però dico ma com'è possibile? Sai ho sempre adorato i waltzer Per questo ho scelto questa canzone per il nostro ultimo recital Ma la pressione per te era troppa vero? Mi vedevi sempre China sul pianoforte A suonare sempre la stessa canzone Ancora e ancora Finché non riuscivo ad eseguirla in maniera perfetta Quando comprasti il tuo primo violino eri così felice di suonare con me Ma tenere testa a qualcuno non è così semplice Forse ho preteso troppo da te Mi dispiace Volevo solo che fosse tutto perfetto E alla fine non abbiamo nemmeno potuto suonare il nostro ultimo recital insieme Ti andrebbe di suonarlo con me Ora? Oddio Sanni Mi hai spaventato Scusami se sono entrato all'improvviso Ero sicuro di aver sentito della musica Mari deve proprio mancarti tanto Ti capisco Ti capisco È stato difficile anche per me Ma penso ancora tutti i giorni È solo che Non capisco perché abbia deciso di lasciarci In quel modo Ma dobbiamo essere positivi Ha sempre desiderato il meglio per noi Non sarebbe contenta se ci sapesse tristi E' tardi dovresti riposarti Tranquillo ti raggiungerà tra poco Ah ci picchia Oh Mari Mi manchi Eh lo so io non lo so Ah posso andare fuori ora? Oh Eh ci ho provato perché dico sai Giocattoli dimenticati era molto scolorito Eh vabbè Meglio non andarci dici? Perché? Vabbè Non si può andare Vabbè Allora rientro Finalmente dico posso andarci Ho voluto fare la prova E invece no Oi oi E non va bene Ok ora non c'è niente Boh Andiamo a dormire un'altra volta? Andiamo a dormire? Un giorno rimasto Mamma mia Oi 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 Ma quelli già hanno tolto le tende? Ok penso che mi fermerò qui allora Leggiamo il messaggio della mamma Ciao Sunny sono mamma Domani è grande giorno I traslocatori saranno già qui domani mattina presto Ho dato loro le chiavi perciò non spaventarti se le vedi Oggi ricordati di risistemare le tue cose Così appena domani arrivo con la macchina possiamo andarcene Forza ometto è tempo di voltare pagina Ok questo è quanto Mamma ti vuole bene? Ciao ciao tesoro? Ehi Hiro Kel Buongiorno Sunny è ora di alzarsi Ho notato che non avevi finito la lista di cose da fare che ti aveva lasciato tua madre Quindi stamattina ho pensato di farle io per te Spero non sia un problema Ah ti ho anche preparato la colazione con qualche Qualcosina presa dal supermercato Quando sarai pronto scendi pure a mangiare E' ancora calda E' ancora calda ma ti avviso che Kel ha il suo secondo piatto Ok Penso che salverò e terminerò qui il video Ieri c'era una stanza qui sotto di notte Ma non è accessibile ora a quanto pare Non esiste più Allora ogni modo Per questo video è tutto E Salvo qui Non so Devo decidere bene Cosa fare Allora ogni modo Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video In descrizione Trovate tutti quanti i link utili E noi Ci vediamo ovviamente Domani Con un nuovo video Bye bye Ciao 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 Ciao